e hanno alla stazione di servizio d'acqua viva poi si vede quelli che comunque come se niente fosse continuano ad andare in giro a tutti gli orari senza mascherine mi sono permesso di fare una battuta a un anziano che stava stamattina ha detto metta la mascherina che stava così mette la mascherina e sono detto c'è bene stenneuti nella chiesa poi non è che mi chiede ma dice che è stato Cristo già fa la fotografia e dice che è ancora un membro di marito